Ed eccoci qua, come da copione dopo aver passato un paio di settimane a commentare, a cercare di emendare un documento europeo tutto concentrato sul problema di quanto è cattivo il debito pubblico e di quanto sia vericoloso per la stabilità finanziaria, come vi avevo ampiamente preannunciato in tante dirette, in tanti scritti, ecco che ci ritroviamo di fronte al fallimento di una banca, anzi due, piccola, anzi grande, perché 200 miliardi non è esattamente una banca piccola, è vero che le man erano 600, ma insomma 200 non sono qualcosa di rascurabile, anche perché ci si è aggiunta un'altra nel frattempo, e quindi ecco che abbiamo immediatamente, in contemporanea, in perfetta sincronia con la decisione dell'illuminato governante europeo di proteggere noi stessi dai problemi che causerebbe il nostro debito pubblico la prova che invece i problemi per la stabilità finanziaria sono creati dal debito privato, generalmente degli altri, perché gli italiani sono abbastanza risparmiatori, abbastanza poco propensi a indebitarsi senza motivo, anche se forse lì si vorrebbe un po' più così, perché naturalmente chi si indebita alimenta un tipo di circuito economico finanziario che è portatore di interessi e che guadagna da questa attività di finanza, attività di finanza che naturalmente non va demonizzata, è molto importante, è un ponte fra il presente e il futuro perché ti permette di anticipare oggi delle spese che altrimenti dovresti attendere magari domani per fare, è un ponte fra il risparmio e l'investimento perché mette in contatto i risparmi dei risparmiatori con la capacità di fare impresa degli imprenditori e quindi con il loro desiderio di investire, quindi la finanza non è cattiva e i banchieri non sono dei bankster come li chiamava un nostro caro amico, non lo sono necessariamente, resta il fatto però che noi abbiamo creato un insieme di istituzioni che genera delle distorsioni sistematiche del mercato e queste distorsioni inevitabilmente si traducono in un incidente, in una crisi, chiedono il conto. La distorsione più significativa creata qui in Europa in particolare, lo si può dire dalla moneta unica perché è stato anche rivendicato che la moneta unica avesse questo significato, era quella di avere dei tassi di interesse troppo bassi. Ci siamo detti fin da subito che i tassi di interesse bassi raccontati come vantaggio della moneta unica in realtà sono anche uno svantaggio. Intanto perché venivano raccontati come vantaggio? Venivano raccontati come vantaggio perché chi ne parlava viveva nel mindset, nella gabbia fondamentale secondo cui l'unico debito è quello pubblico. Vabbè, chi mi segue da qualche anno sa bene quanto sia sbagliato questo mindset. Certo che il debito pubblico può potenzialmente essere un problema, ci sono anche stati che sono falliti, sono andati in bancarotta. Per esempio in Europa la Germania tre volte, l'Italia mai, ma questo è un dettaglio che la gente dimentica. Può esserlo, ma il punto fondamentale è che vanno molto più spesso in bancarotta le banche. E allora se il tasso di interesse basso è positivo per lo Stato indebitato perché così deve dedicare meno risorse a pagare gli interessi sul suo debito e ha più risorse per dare servizi ai cittadini, quindi in altre parole se il tasso di interesse basso visto nell'ottica del debito pubblico è un dato positivo perché riduce il trasferimento di risorse dall'economia reale alla rendita finanziaria, mettiamola così, il tasso di interesse basso visto nell'ottica del debito privato, viceversa, è abbastanza deleterio per due motivi. Il primo è che riduce i margini delle banche, le banche ovviamente quando prestano soldi hanno un margine che deriva da quanto è alto il tasso di interesse, ma soprattutto un tasso di interesse basso, oltre a questa fastidiosa proprietà di schiacciare lo spread, il differenziale fra tassi attivi e passivi per le banche ha un'altra fastidiosissima proprietà che è quella di indurre le persone a indebitarsi perché se il denaro costa troppo poco, come vi ho ripetuto tantissime volte, se ne prende troppo. Quindi da un lato le banche hanno un incentivo a prestare di più perché siccome guadagnano poco sul prestito devono fare volumi importanti, dall'altra il debitore di turno che sia una famiglia o che sia un'impresa ha interesse a indebitarsi di più semplicemente perché il tasso di interesse è basso e quindi può valere la pena di fare le rate per la macchina nuova, contrarre il mutuo per acquistare un appartamento, indebitarsi per costruire un nuovo capannone, qualsiasi cosa, tanto il denaro te lo regalano. Questa è stata la prima fase, la fase precedente alla grande crisi dell'Eurozona, è stata una fase che ha funzionato fondamentalmente così, in cui quindi la finanza pubblica non c'entrava niente, voi lo sapete benissimo perché ricorderete come vi ho fatto vedere che i paesi che sono andati prima in crisi, prima e più pesantemente in crisi, quindi tipicamente la Spagna, l'Irlanda, quella roba là, avevano rapporti debito pubblico PIL bassissimi fra il 30 e il 40%, che capite bene che non sembravano tali da poter porre particolari allarmi sulla tenuta della finanza pubblica, ma c'era un problema di finanza privata, c'era un problema di finanza privata e questo è un tema che si ripropone perché adesso vedete, veniamo da un periodo di tassi di interesse bassissimi, un pochino in tutto il mondo, le ragioni di questi livelli estremamente depressi dei tassi di interesse sono un po' diverse da regione a regione del mondo, del globo, però insomma c'è stata questa tendenza generale di politiche monetarie quindi estremamente espansive, il denaro costava poco, il denaro costava troppo poco, quando dico che il denaro costava troppo poco dico che il tasso di interesse era troppo basso, cioè non era un tasso di interesse di equilibrio e in economia quando non si è in una situazione di equilibrio si generano appunto degli squilibri, per esempio eccessi di indebitamento, in generale anche visto sotto il profilo della finanza pubblica un tasso di interesse basso costituisce comunque anche in quel contesto un incentivo all'indebitamento per quanto questo possa sembrare paradossale, ma è un dato di fatto, se una cosa costa poco ne prende di più, veniamo da un periodo così ed è normale, ve l'ho detto decine di volte che prima o poi qualcosa sarebbe andato storto, con o senza rialzo dei tassi di interesse, è chiaro che il rialzo dei tassi di interesse ovviamente produce, va a pungere con un ago e far scoppiare queste bolle di debito che si creano, perché? Perché fatalmente se i prestiti sono stati contratti a un tasso variabile è facile che chi deve corrispondere la rata di interessi si trovi a non avere i soldi per farlo, perché la rata del mutuo li raddoppia. I lettori del mio blog, gli ascoltatori di queste dirette si dividono in due, quelli che hanno fatto un tasso fisso quando gli spiegavo che i tassi sarebbero cresciuti e quelli che hanno tenuto il tasso variabile. Penso che i primi sono più contenti dei secondi, ma queste dirette sono semplicemente un ragionamento sulla macroeconomia, non sono ovviamente un invito all'investimento. È una riflessione. Se tu hai un tasso di inflazione che è alto, se hai la ragionevole certezza che noi abbiamo avuto da subito, che sia persistente, se quindi pensi che non sarà accettabile avere per lungo tempo un tasso di interesse inferiore al tasso di inflazione, perché questo significa trasferire ricchezza dalla rendita finanziaria all'economia reale e oggi comanda in qualche modo la rendita finanziaria. Ti aspetti che i tassi di interesse saliranno e quindi se hai un buon mutuo con un tasso fisso non altissimo magari te lo conservi, ma sono i conti che ognuno fa per sé. Non è questo il punto. Non stiamo parlando né di avere sfero di cristallo né di fare consulenza finanziaria. Stiamo parlando di come sorgono i problemi. I problemi sorgono così e sono problemi che sarebbe un po' banale dire confinare nella sfera della mala gestio. Adesso si ricomincia a dire no perché quel banchiere ha gestito male, ha prestato i soldi incautamente. Sì, per carità, è chiaro che ogni risultato complessivo è il risultato di tante scelte individuali, ma è anche chiaro che le singole scelte individuali sono dettate da un contesto complessivo. Se il contesto complessivo è un contesto di denaro che costa troppo poco, è abbastanza evidente che le scelte individuali saranno scelte di prenderne troppo in prestito. E il banchiere, diciamo così, c'entra fino a un certo punto. Il stesso discorso vale per «ah ma le regole non sono state rispettate, ah ma il banchiere era amico dei politici». Sì, lì la vera riflessione che dovremmo fare è perché viviamo in un sistema finanziario che ci porta regolarmente ad avere un costo del denaro, un tasso di interesse, che è un prezzo come tante altre cose, il prezzo del tempo vorremmo definirlo, così basso, troppo basso. Perché questo è causa di problemi, è causa di euforia, cui segue il pianto. Ora siamo nella fase pianto. Proseguirà, non proseguirà, ci sarà il contagio, non ci sarà il contagio, le borse, mica le borse. Ma guardate, oggi per esempio su Twitter c'era un divertentissimo e molto istruttivo grafico che faceva vedere come ha rialzi repentini del tasso di interesse che poi corrispondono a sostanzialmente riduzioni brusche e frenate nell'offerta di moneta, inevitabilmente, storicamente si vede che consegue una crisi finanziaria. Può anche darsi che riescano a tenere in piedi questa banca, ma il fenomeno che ha messo in difficoltà questa banca non è la cattiveria, il malanimo, la mala gestio del banchiere John Smith, amministratore delegato di questa banca o Bill Smith, non so come si chiami, non me ne importa nulla. Il problema è strutturale e ce l'hanno, credo, un pochino tutte le banche in giro per il mondo. L'Italia, come al solito, è messa meglio. Voi vi aspettavate che dicessi peggio? Invece no, perché noi di solito siamo messi in meglio ed è anche per questo che all'esito di una crisi economica vengono e ci purgano, perché noi abbiamo i risparmi, noi abbiamo le case, noi abbiamo ricchezza accumulata nel tempo e che serve a tappare i buchi loro. E quindi, per esempio, è assolutamente ovvio che in un contesto di crisi bancaria, cioè di crisi di debito privato, ormai imminente, non dico conclamata perché questi sono solo dei primi sintomi blandi. Non possiamo accettare di entrare in meccanismi di stabilità, come il MES, che si basano sul fatto che se qualche grande banca salta per aria, noi veniamo chiamati a metterci miliardi per tappare il buco. Non possiamo accettarlo soprattutto perché non è ancora passato a livello europeo e non è passato in una versione accettabile e se ne stanno proponendo versioni sempre meno accettabili, il terzo pilastro dell'Unione bancaria, che era quello che tutelava i nostri depositi. Non esiste un'assicurazione europea sui depositi bancari e quindi l'unica cosa che avremmo dai progressi che ci vengono proposti del quadro di governance finanziaria europea è quella di avere la soddisfazione di mettere i nostri risparmi, i nostri soldi pubblici per tappare buchi di banche altrui senza avere nessuno che tuteli i nostri risparmi nel caso di buchi molto improbabili nelle banche nostre. Quindi capite che non c'è tanto da girarci intorno, il problema è questo, infatti vedete che ora che è saltata per aria la banca della Silicon Valley, inevitabilmente dovete fare presto con il MES perché è ovvio, perché fa comodo il loro, è esattamente come il caso della fantomatica Casa Green che PD e 5 Stelle sono tutti lieti di aver votato. Al nord fa freddo, al sud fa caldo, al sud ci sono i terremoti, al nord non ci sono i terremoti. Quindi la morale della favola qual è? Che si fa una direttiva per costringere tutti quanti, al sud e al nord, ad adeguare energeticamente le proprie case quando, diciamo così, per carità, è chiaro che non sprecare è sempre un'ottima cosa, è chiaro che adeguare, ma è anche chiaro che proteggersi dal freddo è un'esigenza che ha chi sta al freddo, mentre proteggersi dai terremoti è un'esigenza che abbiamo noi. Immaginatevi se noi avessimo un peso politico tale da andare in Unione Europea e dire, sapete che c'è, che adesso voi dovete tutelarvi dal rischio sistico. Dice, ma da noi i terremoti non ci sono? Sì, ma non fa niente, volete fare lo stesso? Entro dieci anni, perché vogliamo case più sicure per le generazioni future, incidentalmente magari la tecnologia è nostra e quindi la comprate da noi. Sarebbe fantastico, giusto? Per la nostra economia sarebbe sicuramente un grande vantaggio. Purtroppo non funziona così. Allora, non funziona ancora così. Diciamo che siamo passati dal sbattere i tacchi e il signor sì del BD a un atteggiamento più interlocutorio e dialogante. Certo però che resta il fatto che il contesto nel quale ci troviamo ad operare è un contesto fortemente squilibrato, fortemente asimmetrico. Di questo parleremo a Roma il 15 aprile, cioè fra un mese e un giorno, nel convegno sui dieci anni di asimmetrie europee a un anno dal voto in Europa, che è organizzato dall'associazione Asimmetrie, sul cui sito e sui cui social potrete prenotarvi. La prenotazione è richiesta, è un convegno che dura tutta una giornata, un'intera giornata di studi in cui riuniremo tanti studiosi e tanti personaggi a voi cari del dibattito per riflettere sullo stato dell'arte. Vi lascio e grazie per avermi fatto compagnia.